Cosa vuol dire? No, deve essere reale. Cosa sta guardando? No, ma scusa! Io guardo questo, posso guardare. Basta, immigrati, pensiamo di dire. Noi sabato, a Reggio Calabria, a Reggio Calabria, andiamo a fare una grande manifestazione per dire basta morti, basta sbarchi. Più sbarchi ci sono, più morti ci sono, più guai per gli italiani. Anche noi, a domanda, anche voi, anche voi. Allora, adesso la notizia di ieri è Brontex che prenderà il posto.